Sono vittime della disinformazione, dell'indifferenza, dell'incuria. Ogni giorno i sacchetti di plastica vengono sprecati. E noi sprechiamo risorse preziose del pianeta. Salva l'ambiente. Salva un sacchetto. Portalo a casa con te. Se è un sacchetto in bioplastica, usalo per raccogliere i rifiuti organici della tua cucina e poi mettilo nella raccolta dell'umido. Se è un sacchetto di plastica, riutilizzalo finché puoi e poi mettilo nella raccolta della plastica. Salva un sacchetto. Salva l'ambiente. Un'iniziativa Conai contro gli sprechi.